senti io sono la 23 fammi una cortesia bello a riccio spostami dei posti voglio la posti più bello che c'è qua dentro non mi trovo male e poi io ve roppi li coglioni che la faccio più posti che stederma 60 gradi 70 ma fa caldo dentro la capra dammi un posto bello fammi la cortesia ma io non c'ho un po non mi fa incazzare no 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 dai per cortesia ti sto chiedendo pure per cortesia e pure troppo dai dai piazzola già sto andando a mia moglie è diventata purma senza tar che sta buona i miei visi sono tutti ingrassati qui stavo a scoppiato il dark camper almeno fammi stare meno comodo la piazzola buona voglio una piazzola non c'è sta solo ma piazzola e sbrigati sbrigati ma dai va bene così dai piazzola a 23